Un cordiale buon pomeriggio dalla redazione di Florence Multimedia in studio Andrea Biagioni e partiamo con l'A15 dove si registrano 5 km di coda tra Aul e l'allacciamento con l'A12 in direzione dell'A12 situazione critica invece in A1 dove a causa del traffico intenso si registrano code tra Firenze e Scandice e Firenze in Pruneta in direzione Roma, code inoltre in uscita a Firenze in Pruneta e a Val di Chiana provenendo da Bologna mentre si registrano code a tratti tra Badia e Aglio e tra Aglio e Calenzano Sesto Fiorentino in direzione Firenze gustiamoci sulla A12 dove si segnalano code a tratti tra Brugnato, Borghetto Vare e Carrara in direzione Livorno Firenze e Cantieri della Tranvia si ricorda che fino al 10 agosto rimarrà chiusa via Valfonda con deviazione dei mezzi pubblici verso Piazza della Stazione e Via della Scala Muoversi in Toscana Info realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze Buon viaggio! Buon viaggio!